Sette gennaio 2020, grazie a tutti di essere qui presenti con noi in questa puntata di Voci Trasnazionali in compagnia di Esmail Moades, che è uno scrittore iraniano già presente negli archivi di Libri TV, l'avete visto già varie volte, le ultime volte probabilmente alla marcia per la libertà dei popoli oppressi organizzata da Società Libera, è uno scrittore iraniano, ha anche un libro da poco, se non sbaglio, pubblicato, poi dopo ne parleremo e la puntata di oggi si interesserà, faremo alcuni commenti su un'attualità che è la morte e l'uccisione di Qassem Soleimani, con un raid, un missile l'ha colpito, l'ha colpito lui, due macchine, in realtà all'aeroporto di Baghdad, due macchine, sono morti cinque e due iraniani, lui era uno appunto di due iraniani, l'altro iraniano era un generale abumati al... non l'ho pronunciato bene, adesso mi aiuterà, spero Esmail, Soleimani era un personaggio molto importante del regime iraniano, io vorrei cominciare intanto ringraziando Esmail di essere qui con noi, ecco, è una cosa molto importante, molto grave, pesante, ecco, la prima cosa che hai pensato quando hai avuto questa notizia, qual è stata? Buonasera Gianni a te, grazie per avermi dato questa occasione per poter parlare con chi ci ascolta. Dunque, diciamo che io devo confessare questo, che la morte di nessuno mi rallegra, questo, io so che questo, faccio dispiacere a molti che mi ascoltano di questa cosa, però non è importante, devo dire quello che sento realmente, però, però, ho avuto subito un sentimento di sollevazione, perché ho sentito le mani, era veramente uno degli artetici di un regime sanguinario che praticamente da 40 anni ha messo in sangue tutto il Medio Oriente e non solo. Per cui, adesso non voglio semplificare una battuta che, insomma, lo dicono abbastanza tutti, che il mondo senza solemani è più sicuro, lo è sicuramente. Questo attacco, questo raid si inserisce, diciamo, dopo un attacco appunto che c'è stato all'ambasciata statunitense. Ecco, tu pensi che in questa, io ho avuto l'impressione lì per lì che comunque sia, in qualche modo, solemani avesse, come si dice, la croce, stava già nel mirino da tempo, quindi era soltanto un momento, il momento, il problema era trovare il momento giusto. Ecco, tu pensi che sia proprio effettivamente una ritorzione o comunque era un pazzo che Trump aveva già, tra l'altro Trump ha subito rivendicato la cosa, che era comunque sia scritta, che sarebbe successa comunque? Allora, partiamo dalla natura del regime iraniano, cose che varie volte abbiamo parlato. Io credo che non si possa in nessun modo avere un accordo con il regime iraniano. Quindi il regime iraniano crea problemi. Crea problemi, ricordiamo che i problemi del regime iraniano con l'Occidente e con l'America, esattamente 4 novembre 1979. Da lì a qui, praticamente l'America, compreso l'America di Reagan, l'America di Bush, per non parlare di Clinton oppure Obama, tutto quello che il regime iraniano chiedeva gli hanno dato, però non hanno avuto un risultato definitivo, perché il regime iraniano non è in grado di avere un rapporto normale con altri paesi. Per cui, Voisem Soleimani già sin da subito si arrola nel corpo dei Pasteran, è coinvolto nella guerra. Poi sul suo conto ci sono per esempio alcune battaglie dove sono state macellati migliaia e migliaia di ragazzi della scuola. Poi dopo l'invasione del 2003 da parte degli Stati Uniti dell'Iraq, entra Voisem Soleimani avendo un ruolo molto importante, perché varie volte abbiamo parlato che l'Iran praticamente in sostanza occupa l'Iraq e comincia a stendere la sua rete. Però fino a la nascita dell'Isis, questo Voisem Soleimani lo conoscevano soltanto gli addetti al lavoro, era un personaggio misterioso, molte volte i giornali occidentali e anglosassoni l'hanno chiamato l'uomo più potente del Medio Oriente, però tutto sommato non era un personaggio così pubblico. Quando c'è stata la battaglia contro l'Isis, questo famoso l'Isis, allora l'Iran ha voluto darsi un ruolo, un volto nella guerra contro l'Isis. Vedo che i mass media occidentali e italiani battono molto su questo occhiodo. Io vorrei ricordare un semplice fatto. Nella guerra contro l'Isis sono morti 12.000 kurdi siriani, 2.000 kurdi iracheni, 2 uomini di Voisem Soleimani, 2 è passato. Quindi diciamo che la guerra contro l'Isis hanno condotto i kurdi con l'aviazione americana. L'Iran ha avuto un ruolo molto marginale, però voleva avere questo leadership in questa cosa e da allora è cominciato questo Qasem Soleimani, un personaggio importante per l'Occidente. E poi che cosa è successo in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi? Che cosa è successo? Verso metà ottobre in Libano, in Iraq, sono scoppiate delle rivolte. Delle rivolte nelle zone scite, dove il regime iraniano era più presente, più influente, dove aveva speso più soldi. Quindi in quelle zone lì, poi da lì praticamente è invaso tutto il paese Libano e in Iraq, e verso 15 novembre è scoppiata anche una rivolta violentissima in Iran. Quindi l'Iran è veramente traballava. Quando negli anni passati in Iran comunque la pressione da parte, diciamo dal basso del popolo, il regime iraniano esportava la pressione in Iraq, in Siria, in Libano, ma questa volta aveva problemi anche lì. Quindi Qasem Soleimani, che praticamente era come un, non so come chiamare, un governatore, un superpartis, un padrino, doveva sistemare la situazione in Iraq soprattutto. Perché la gente, migliaia di gente di vari tipi, studenti, lavoratori, tutti quanti, soprattutto di una composizione arcobalena, questo è molto molto importante, ma sempre l'Irania doveva sistemare lì, perché lì si collegava molto facilmente con quello che succedeva in Iran, quindi rinfacciava a governanti iracheni che completamente nelle sue mani, rinfacciava che voi non sapete sedare questa rivolta, e quindi ecco perché andava lì fino a occupare ambasciata americana, esattamente ciò che avevano fatto in Iran nel 79, e quindi diciamo che ha spinto un po' troppo. L'America, l'America, l'America da quando l'Iran ha battuto il drone, quando ha battuto la rafineria dell'Arabia Saudita, tutte quelle navi che sono state attaccate dall'Iran, l'America, questo famoso pazzo Trump, ha dimostrato, a parte, al di là di quelle che dice le sue parole, ha dimostrato all'amministrazione americana una pazienza abbastanza importante. Diciamo che si è andato avanti un po' per accumulo. Esatto. Tu hai citato appunto l'attacco all'ambasciata, ecco a questo punto è il caso di citare anche l'altra vittima iraniana che è abbrumato al-Wandit, che pare che sia stato uno degli artefici, degli stimolatori, degli ispiratori, e anche lui, insomma, ha trovato la morte in questo attacco. Con un drone anche lì ci sarebbe tanto da dire, perché pare che, adesso non so se è vero, che Soleimani sia stato identificato da un anello che portava sempre con sé, per sicurezza. Quindi questo anche mi fa pensare che, insomma, la cosa era da tempo, era una pratica pronta, andava soltanto spinto l'ultimo tasto. Allora, intanto vediamo chi è questo Abu Mehdi Mohandes. Lui diciamo che ha lo stesso ruolo che aveva Soleimani in Iran, l'uomo più fidato, più potente, a capo di centinaia di migliaia paramilitari che proprio la forza di Soleimani ha creato in Iraq. Quindi era un uomo molto, molto, molto importante, molto importante. Soleimani, anche quando andiamo a vedere il dinamismo della sua uccisione, allora, lui praticamente, verso mezzanotte, arriva da Beirut, arriva all'aeroporto di Babdor, che praticamente, Abu Mehdi Mohandes, va con 4 o 5 dei suoi uomini a prenderlo, e lo portano via, diciamo, dalla porta secondaria dell'aeroporto, perché lui si sentiva sicuro, perché incuteva paura persino negli americani, quindi lui si sentiva, non aveva bisogno, un uomo così importante andava con una scotta ridicola, ok? E quindi, poi gli americani praticamente l'hanno colpito talmente preciso che intanto di lui è rimasto la parte sana, diciamo il braccio, dove c'è questo famoso anello, e poi diciamo che tutto l'ambiente non è stato neanche graffiato, e quindi diciamo che il lavoro più che altro è stato un lavoro di intelligence molto molto accurato. Ovviamente sono esplose tutta una serie di scenari per quanto riguarda le reazioni. È in corso, credo, ancora la cerimonia funebre, non so bene come chiamarla, ma insomma, che è una cerimonia con un'affluenza di popolo gigantesca, ci sono stati dei morti per questo, per l'affluenza, per la calca, e anche la promessa appunto di una vendetta, addirittura fatta alla figlia di Soleimani, ogni iraniano vendicherà. Ecco, tu che idea ti sei fatto? Sarà un qualcosa di catastrofico, darai via ad un'escalation che poi comporterà tutta una serie di alleati, o anche modifica di alleanze, oppure un sistema con attentati mirati di qui a chissà quanto tempo? Sarò molto isolato, una voce fuori dal coro, però io non credo che ci si darà un granché, per un semplice motivo. Per esempio, Rouhani, incontrando la figlia di Soleimani, ha detto che Dio vendicherà, questo è insignificativo. Quindi, l'Iran si è messo in una posizione che qualsiasi mossa faccia ha da perdere, perché ormai ha capito che Trump non è Obama, quindi se colpisce obiettivi americani, ma a questo punto io credo anche i paesi alleati del Golfo dell'America, l'America reagirà. Poi Trump ha promesso che anche ci sarà una reazione sproporzionata, quindi sul piano, guarda Gianni, è molto chiaro, sul piano militare, sulla forza, non c'è la partita. E quindi l'Iran, finché si umla, finché, diciamo, bisogna fare atti terroristici, però dall'altra parte l'Iran non vorrà non reagire. Quindi adesso il problema è cosa fare. Qualcuno ha avventato, parla, facciamo questo, facciamo quell'altro, però le voci all'interno del regime sono molto più quelli che, diciamo, considerano cautela, considerano cautela perché sanno che questa volta se facessero qualche cosa la reazione sarebbe di sicuro. E quindi, ripeto, però un'altra chiave che esclusivamente da una persona come me puoi avere su questa facenda diciamo che l'America ha avuto il coraggio di reagire alle provocazioni infinite del regime iraniano perché 15 novembre in Iran c'è stata una grandiosa rivolta. Perché il popolo iraniano è molto, molto influente sul destino dell'Iran e questo popolo è il grossissimo problema del regime iraniano. Infatti di questo adesso parliamo. Prima volevo farti una domanda che potrebbe essere adesso non vuole essere blasfemo ma io sono laico insomma non so come dire di costume o quant'altro. Soleimani è stato già consacrato martire ora io non sono pratico di misti con misticismi però io sapevo che insomma i martiri dell'Islam erano chi moriva fosse morto insomma in battaglia in combattimento insomma una cosa del genere mi pare che è una cosa abbastanza forse con un nostro termine molto in voga populista insomma Sì naturalmente sai il regime iraniano soprattutto in questo momento ha bisogno dei eroi perché il grosso problema dell'Iran che visto le ultime faccende dell'Iran visto la corruzione diffusa nel regime iraniano il regime ha problemi di contenere i suoi uomini quindi diciamo che questa mobilitazione che hanno fatto che hanno portato in giro Soleimani che poi oggi sono morte fino a 70 persone si dice perché la gente è affamata tanta gente è andata perché davano anche pranzo eccetera eccetera questo è il dramma diciamo approfondiamo un attimo questo aspetto fino a qualche settimana fa c'erano delle vere e proprie rivolte all'interno appunto dell'Iran nelle grandi città allora pare che ovviamente c'è una censura di internet che non fa uscire messaggi affinché appunto non escono messaggi il regime ha ridotto la banda però insomma tramite alcuni social telegram instagram insomma poi alla fine si emerge che in realtà il problema è di fame quasi insomma un problema economico un problema di crisi e di riduzione dei soldi che sono disponibili nel bilancio da investire nel sociale e la gente non gliela fa più perché poi in qualche modo contesta al regime quindi il regime è imputato che questi soldi quindi i soldi che restano non sono diciamo dati redistribuiti ai cittadini ma vengono investiti in altri scenari Libano Gaz e così via ecco questa è una cosa che pensi che continuerà anche a seguito di questa chiamata di popolo in qualche modo che sta afflato per il martire Soleimani la notizia ieri il Parlamento del regime ha approvato diciamo il decreto secondo cui daranno 220 milioni di euro per due mesi gli ultimi due mesi rimasto dell'anno iraniano alla forza di Pots a che servono questi soldi a che servono questi soldi per appunto perché Pots è stata istituita nel 97 che praticamente è il ramo del corpo dei Pasteran che è operativo all'infuori dell'Iran quindi azione terroristica a cui capo diventato successivamente Soleimani quindi per questi due mesi rimasti hanno aumentato hanno dato 220 milioni di euro adesso vediamo come vorranno spendere questi soldi e nel budget nella finanziaria finanziaria dell'anno avventuro hanno aumentato 39% diciamo di cose istinzioni religiosi propaganda eccetera eccetera ok tutto questo mentre detto dal regime iraniano 70 80% della popolazione vive sotto la soglia della povertà Gianni io sono testimone diretto ho contatti diretti i ragazzi laureati vendono i reni ok per sfamare la famiglia l'altro mese è scoppiata uno scandalo veramente disumano una ragazza una signora una giovane signora che dormiva la notte nelle tombe per pararsi dal freddo per un panino ha dovuto dormire con tre uomini questa è la situazione del virus perché i soldi vanno per esempio stamattina il capo di Hamas Esmail Haniyeh è andato a trovare la famiglia di Soleimani Esmail Haniyeh sunnita e questa guerra tra Shih e sunnite che veramente è insopportabile quando sento veramente è insopportabile una cosa così falsa quindi si deve andare lì perché prende centinaia di milioni all'anno così anche Esbollah che prende un miliardo quindi è chiaro che un paese così ricco come l'Iran la gente muore di fame dopodiché muore di fame non ha da mangiare non c'è lavoro poi i figli di alcune famiglie iraniane sperprano soldi in una maniera incredibile oggi per esempio uno sulla sua Porsche aveva messo la foto di Soleimani ma ando girando quindi adesso gli iraniani in questo momento Gianni non hanno altro da perdere che le loro catene i motivi di questa crisi economica diciamo gli analisti ovviamente li attribuiscono all'embargo statunitense per quanto riguarda il petrolio cioè c'è una carenza enorme nel bilancio iraniano delle entrate che prima venivano appunto dal commercio di petrolio nonostante poi ci siano state esenzioni riduzioni e quant'altro per alcuni paesi tra cui anche noi ecco è una fame in qualche modo indotta per minare questo regime allora negli anni di Ahmadinejad da 2005 2005 sì a 2015 l'Iran vendeva di media oltre 100 miliardi di petrolio ok ma la situazione economica della gente è andata sempre peggiorando quindi adesso praticamente dopodiché dopo diciamo 2015 quando hanno fatto accordo nucleare l'America di Obama ha mandato un miliardo 700 milioni addirittura nelle casse con l'aereo hanno portato nelle case questo Trump lo rinfaccia sempre proprio con le casse hanno portato che poi i soldi hanno trovato nelle casse di Hezbollah o di Hamas eccetera eccetera ok poi dal 2005 fino a 2018 quando nuovamente hanno messo le sanzioni dove sono andati con i soldi allora il regime iraniano è governato dagli incapaci no che di economia di diciamo competenza per loro è una cosa ridicola no e degli corrotti e dei incapaci quindi diciamo che tu puoi versare tutti i soldi del mondo lì ma non succederà nulla tanto è vero che per esempio molti soldi perché sai per quanto riguarda genere alimentari o medicinali non sono sotto la sanzione no qui però i soldi che bisogna che devono andare per fare queste cose molte volte si è verificato che praticamente vanno all'acquisto dei prodotti di lusso quindi questa gente qui poi adesso anche le banche americane hanno varie volte pubblicato i conti esteri dei capi di regime quello di Fomenei è una cosa veramente esterminata oltre 140 miliardi e quindi mi ha fatto venire in mente una nostra comune amica che è Blanca Bricegno da cui ho sentito dire che salutiamo lei ci segue ciao Blanca da cui ho sentito dire cose molto simili per quanto riguarda il Venezuela c'è un regime che affama i propri cittadini mi ricordo che un po' credo l'ultima o la penultima delle nostre trasmissioni in passato stavamo commentando poi poi eravamo alla vigilia o poco dopo il famoso accordo sul nucleare il nuovo cosiddetto nuovo corso di Rouhani ecco una delle cose che in qualche modo si può annoverare come reazione è avvenuta subito dopo è la dichiarazione di Iran di recedere dall'accordo sul nucleare ecco pensi che possa essere qualcosa che abbia una perspettiva militare anche in funzione di reazione all'assassino di Soleimani allora da quando l'America ha abbandonato l'accordo è una cosa che Trump ha sempre contestato a Obama a questo accordo appena forse pure prima che diventasse presidente no no anche io ho scritto che cosa era un accordo che lasciava comunque le mani del regime in qualche modo a produrre la bomba nucleare e dall'altra parte anche l'Occidente insomma abbiamo parlato di quell'accordo che non andava bene e non portava a risultati però l'Iran sperava che una volta andato via gli Stati Uniti l'Europa facesse un po' di più però l'Europa come politica è stata presente alla cerimonia di chiusura dell'accordo e null'altro e mi sembra che anche in questa occasione ecco io adesso leggo qui le ultime notizie ci sono state delle iniziative personali sostanzialmente una telefonata di Macron è preoccupato ha detto che cercheranno di lavorare nella Francia per calmare le tensioni insomma tutte cose in iniziative individuali perché Macron ha parlato domenica con Trump adesso quelli che parlano all'Iran dicono senti adesso vi dovete calmare il tempo è finito quindi Macron non ha detto altro che questo senti questa volta non voglio giocare per cui l'Iran in qualche modo vorrebbe uscire diciamo dall'accordo nucleare che in questi giorni hanno ripreso a arricchimento dell'uranio quindi ha preso un passo importante verso l'uscita perché l'Iran non sa cosa fare oggi in qualsiasi momento se tornasse diciamo intanto mette una una condizione diciamo impossibile dice all'America prima la sanzione poi io vengo al tavolo poi però in questo momento l'Iran in qualsiasi modo arrivasse al tavolo della negoziazione non ha altro che da perdere e questo lo sa molto bene per cui io credo che la situazione andrà verso isolamento ancora maggiore di regia questa è una cosa che ovviamente per il futuro e le condizioni dei cittadini iraniani di questo popolo erede della Persia auguriamo volentieri nel frattempo registriamo qualche dichiarazione per esempio per esempio Israele perché sono tutti contenti lì ovviamente però è una cosa che si vedono in Stati Uniti e Iran non vogliono entrarci ci sta una dichiarazione di un generale se non sbaglio adesso dovrei trovare il nome allora prima ci sta il senatore Chris Murphy che è democratico che dice le prove di questi attacchi che stava preparando Soleimani dovrebbero essere portati al congresso che il congresso è stato esautorato che è un po' una protesta anche interna si insomma è anche una cosa abbastanza di rito poi appunto è anche una cosa singolare un po' italiana che mentre Trump prende questa decisione nel congresso insomma si parla per la famosa questione dell'impeachment della riduzione dei poteri e quindi insomma vabbè però in Israele appunto ci sta Ersi Alevi che è appunto un responsabile militare un militare un ufficiale che appunto sembra un pochino prendere indico le distanze però io immagino che lì ci siano dei grossi timori timori allora ho detto il regime iraniano è isolato è disperato e quindi nella distrazione per esempio in questi ultimi mesi hanno portato moltissimi missili a lungo raggio in Iraq per colpire Israele naturalmente per sfogare appunto questa impressionante pressione che c'è sul regime iraniano quindi naturalmente gli israeliani sono preoccupati anche se nel 2019 centinaia di attacchi israeliani nel territorio siriano hanno fatto hanno fatto fuori veramente decine dei pastaran anche importanti no? l'Iran non ha toccato non ha reagito non ha neanche pubblicato la notizia quindi diciamo che l'Iran quando andiamo nei fatti no? è poca roba è poca roba fa paura soltanto all'Europa e quindi diciamo che effettivamente però dall'altra parte il regime iraniano da sempre dice che vuole cancellare Israele dalla casa geografica quindi Israele ha ragione ad avere timore anche se penso che israeliani prendendo sul serio cosa minaccia sono preparati prima abbiamo accennato al ruolo o meglio il non ruolo dell'Europa insomma una presenza abbastanza tiepida se così possiamo dire c'è un'altra diciamo organizzazione internazionale che ancora ha una certa credibilità che è l'ONU che si dovrebbe appunto riunire nel consiglio di sicurezza a quale pare appunto sia stato invitato anche un altro personaggio importante magari io ho sempre pensato che fosse veramente molto influente che appunto il ministro degli esteri Sarif iraniano e Pechino ha chiesto agli Stati Uniti di dargli il visto affinché possa partecipare anche lui ecco questo personaggio Sarif come in questo contesto tu come lo valuti? Sarif è spesso lui ha dichiarato non ha fatto nessun viaggio nessun atto politico senza confrontarsi diciamo confrontarsi con Soleimani allora sì perché la politica estera iraniana è diciamo appartiene al leader spirituale ok quindi Sarif non è al massimo al massimo è un portavoce del regime un portavoce che porta quel suo bruttissimo sorriso in giro che soltanto a Mogherini poteva piacere però davvero non ha nessunissimo né lui né Rouhani non hanno nessunissimo potere e forza e quindi però dall'altra parte no anche non concedendo il visto a a Zari no l'America dimostra di essere serio adesso basta giocare e questo sta dimostrando dopo di che non so che cosa avrebbe detto ancora bugia su bugia bugia su bugia non ha senso questa cosa della concessione dei visti è una cosa per quanto riguarda il consiglio di sicurezza che ha parecchi precedenti se non ricordo male parecchi anni fa la questione si pose anche per Arafat se non ricordo male perché ovviamente è territorio statunitense ci vuole il visto e così via senti Esmail in apertura giustamente l'abbiamo presentato come scrittore hai scritto un libro ecco abbiamo qualche minuto ancora parliamo un attimino di che si tratta allora questo libro che ho la lo faccio vedere con un po' di vergogna come sarebbe perché mi sembra imbarazzo parlare di me allora questo è un libro è molto molto importante io ho speso diciamo 12 anni della mia vita a scriverlo accumulando poi gli studi esperienze personali prima è un libro molto importante per un semplice motivo adesso dimenticate che sto parlando del libro che ho scritto io dimenticate questo questo è un libro molto importante perché parla della storia dell'Iran dalla fine dell'Ottocento fino a ora ma soprattutto diciamo che molti italiani ricordano molto bene gli anni 50 in Iran quando c'era un governo democratico di Mossad che poi è stato diciamo abbattuto dal colpo di stato americano poi il regime dello Shah che cosa era lo Shah questa favola di modernizzazione dell'Iran occidentizzazione dell'Iran e poi ancora il ruolo dell'America come ha aiutato Khomeini all'ascesa al potere poi tutta diciamo questa politica di appeasement dell'America verso l'Iran dico tutto questo perché io in Italia continuamente tutti i giovani che mi danno lezione di che io devo essere contro l'America io che sono abituato non essere io sono tifoso della Juventus Juventus quando vince la partita adesso lo dobbiamo dire la Juventus sportivamente dicendo quando vince mi va bene gioca bene gioca male no ma su altre cose sulla politica sulla vita no io non sono tifoso io penso credo di ragionare e quindi diciamo che in questo momento noi dobbiamo sapere no sto parlando con tutti quelli anti-americani tutti quelli anti-Trump no conservate conservate il vostro odio va benissimo no però lasciate per un momento più propizio in questo momento come si fa a non capire e che problema urgente non dico principale ma urgente è l'integralismo islamico nato in Iran e sovvenzionato dal regime iraniano quindi questo libro spiega diciamo per tiro per segno questa cosa qui tu ti ricordi quando abbiamo presentato con Pannella Pannella è rimasto veramente colpito di questo libro che mi aveva promesso che avremmo presentato due giorni consecutivi non so come avrebbe fatto al Parlamento Europeo a Bruxelles però per dire che insomma è un libro spero che racconta i fatti i fatti che gli altri non raccontano che cos'è successo in Iran la rivoluzione che noi abbiamo fatto nel 79 era una magnifica rivoluzione laica della democrazia non c'entrava nulla con la religione poi appunto grazie all'America di Carter hanno messo Comenia a capo con la rivoluzione la nostra rivoluzione è diventata islamica poi ha cambiato il Medio Oriente e ha cambiato il mondo ok ora quel cammino sta continuando in questo momento storico molto importante come dicevo è in piazza il popolo iracheno e il popolo iraniano poi tu lo sai che l'Iran e l'Ira e questi anche gli anni 70 avevano sempre queste scramuce questa volta questa volta è molto molto importante io per esempio gli iraciani sento i miei fratelli quindi se diciamo noi possiamo abbattere il regime iraniano e il regime iracheno veramente in Medio Oriente ci sarà una stabilità l'America se ne va che forza perché se tu sei anti americano se tu vuoi cacciare l'americano non servono le bombe servono la democrazia ecco queste sono parole veramente molto importanti perché in qualche modo la stabilità la pace non necessita di gendarmi di eserciti di impegni di morti ovviamente perché dove ci stanno guerre ci sono morti e di impiego di risorse io ti ringrazio Esmail penso che potremmo darci anche un appuntamento a più in là vedremo un pochino quando poter fare un aggiornamento su questa situazione speriamo che le tue previsioni appunto di non realizzazioni di catastrofiche ritorsioni siano reali lo speriamo per tutti coloro che stanno temendo Israele credo in primis in questo momento ti lascio qualche minuto in chiusura rifacci vedere la copertina del libro adesso ti vergogni ma insomma da un punto di vista giornalistico è importante una voce in capitolo di Esmail di Moades io ti ringrazio ancora lasciarti la chiusura allora io vorrei dire intanto io sono molto molto ottimista perché conosco il mio popolo la mia buona volontà la buona volontà dell'Iran io Gianni posso dire una cosa che il popolo del Medio Oriente è assetato della democrazia di laicità di progresso e di prosperità perché non è possibile che una terra così ricca così piena di diciamo gente tantissimi giovani vivono veramente anche viva viva che stesso tantissima gente laureata e disoccupata perché perché è destabilizzato da forse mi che adesso da Soleimani che adesso non c'è più quindi io credo che noi avremo nei prossimi mesi io credo che nel 2020 è un anno molto molto importante per noi iraniani per i popoli del Medio Oriente e attraverso cui no forse possiamo dare una speranza a questa vecchia Europa che veramente vive in una situazione drammatica tu ti ricordi quando abbiamo fatto la marcia per la pace io ho discorso che ho tenuto praticamente la chiave del mio discorso che io vivendo in questo paese in questo continente io sento imbarazzo poi data congresso che abbiamo fatto recentemente a Milano l'altra parola chiave che questo occidente con questa sua crisi praticamente un miliardo di persone con i suoi governanti stanchi hanno in ostaggio 7 miliardi della popolazione quindi io credo che veramente noi popoli del Medio Oriente io non faccio distinzione che io sono iraniano occidentale musulmano questo e quest'altro noi siamo esseri umani io credo che come al solito in questo buia notte il sole sorgerà dall'est perfetto grazie grazie Smyl Moades grazie a tutti coloro che ci seguiranno a presto su Libri TV grazie a te Gianni grazie a tutti